Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale dove parlo di social media, mindset e business online. Quali sono gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione per comunicare online in maniera chiara, veloce e soprattutto efficace? Ci basterà davvero molto poco. Se la comunicazione online è un argomento che ti interessa, continua pure a guardare questo video. Nella lezione di oggi andrò a spiegarvi come poter registrare in maniera molto semplice un video. Il tool che andrò a utilizzare si chiama Loom ed è esattamente quello che sto utilizzando io in questo momento per la registrazione di questa lezione. Per poter utilizzare mi basterà andare sul sito loom.com, come scritto qua sopra, e creare un nuovo account. Loom funziona sia per Mac che per Windows e anche per sistemi iOS, cioè per il sistema operativo di Apple. Cosa devo fare? Prima di tutto devo andare a crearmi un account. Per poterlo fare devo andare a cliccare su uno di questi due tasti, blu, o qui o qui. Clicco sopra e mi si apre una nuova schermata. Ho diverse possibilità. Io posso loggarmi utilizzando un account Google, un account Slack oppure inserire un mio indirizzo mail. Creo un nuovo account e vado a completare tutti i campi che vengono indicati. Mi raccomando, la password deve avere almeno otto caratteri. Vado a copiarla anche nel campo sottostante e poi devo ricordarmi di accettare i termini e le condizioni. Se volete vedere quali sono i termini e le condizioni, vi basterà cliccare su qua. Una volta completato tutto, clicco su continua e si apre una schermata successiva. Aspettiamo qualche secondo. Ecco qua. Allora, chiudo. Allora, mi chiede di spiegare per quale motivo andrò a utilizzare Loom. Posso sceglierne uno, quello che voglio. Io clicco su personal e vado su continua. Ho due possibilità. Posso anche decidere un secondo momento, ma ti consiglio di farlo in questo momento. Allora, posso utilizzare il programma Loom attraverso una Chrome Extension. Una Chrome Extension non è altro che un piccolo programma che viene installato sul browser Chrome, quindi in questo caso ho bisogno di utilizzare Chrome. Se uso un altro motore di ricerca non posso utilizzare questa prima possibilità. La seconda possibilità è quella di utilizzare l'app di desktop. Per poterlo fare, io vado a scaricare la app. Clicco qua sopra, mi si apre questa schermata dove mi viene indicato che mi sta scaricando questo programma. Indico dove lo voglio, in questo caso lo sto mettendo sul desktop. Clicco Save e aspetto che venga scaricato. L'opzione che guardavamo prima, quella della Chrome Extension, viene installata da qua. Clicco sopra in modo da far vedere anche questo non mi interessa. Mi si apre direttamente il Chrome Web Store e io non devo far altro che andare sul tasto Aggiungi, Controllo. Mi richiede di dare l'accesso al video e anche al microfono, perché in questo modo posso utilizzare poi tranquillamente il mio programma. E io gli do Add Extension. Una volta dato l'Add Extension, quello che succede è viene evidenziato da questa schermata. E infatti questo tastino è quello del mio tool. Vuol dire che tutto funziona correttamente, è stato aggiunto al mio browser e io lo posso utilizzare da qua. Una volta finito questo procedimento, mi sarà sufficiente andare a chiudere questa schermata e abbiamo completato il tutto. Qualora io avessi deciso per l'opzione numero 2, quindi sono delle alternative, le posso tranquillamente anche installare entrambe, vado su il pacchetto che ho appena installato, ci clicco sopra e aspetto che venga completato. In questo caso, solo per quanto riguarda il Mac, io ho bisogno di prendere Loom e andare a spostarlo nella cartella Application. Io avendolo già fatto, ovviamente non ho bisogno di farlo un'altra volta. Per quanto riguarda Windows, una volta installato, potete utilizzarlo così. Torno sul mio browser per andare a utilizzare finalmente la mia app. Cosa dovrò fare? Allora, per poterla utilizzare io vado sul, apro una pagina a caso, prima di tutto del browser, per poter utilizzare l'extension. Andiamo su Google e andiamo a trovare Corriere della Sera, diciamo, una pagina che mi interessa registrare. Perfetto. Allora, come funziona Loom? Io vado sulla piccola icona che trovo qua sopra, ci clicco sopra, mi si apre l'autorizzazione, la richiesta di autorizzazione. Questo viene fatto una sola volta, non hai bisogno di farlo tutte le volte. Una volta dato il permesso di accedere sia al microfono che alla webcam non avrò bisogno di dargli il permesso una seconda volta. Una volta fatto questo, che cosa succede? Io posso decidere di farlo direttamente in questo momento, di accedere, dare l'accesso al microfono e alla camera, quindi permesso, e è tutto fatto. Aspetto qualche secondo e questa è la schermata che mi compare. Allora, io ho diverse possibilità. Io posso decidere di utilizzare sia, registrare sia il monitor, lo screen, che la cam, cioè utilizzare una webcam, che può essere sia quella del computer che una webcam esterna. Posso decidere di registrare solo il monitor oppure di registrare solo la cam. Quello che posso poi scegliere è anche la tipologia di microfono. Ho dei piccoli suggerimenti che vengono indicati, come possiamo vedere qui. Allora, prima di tutto mi dice, vuoi registrare un video? Perfetto. Allora, sei pronto per registrare il tuo primo video, devi semplicemente scegliere. Se vuoi avere dei passi successivi, delle indicazioni successivi, dei suggerimenti, basta cliccare su questa parte rossa, learn more, e verranno indicati altri step. Io in questo momento non mi interessa, quindi evito questa parte. Allora, se io volessi registrare solo il desktop, mi basterà cliccare su full desktop. Ma prima di tutto andiamo a a vedere quali sono i vari tasti che ho a disposizione. Allora, questa onda è semplicemente l'indicazione del mio microfono. Significa che io sto correttamente registrando anche l'audio del programma. Se andassi a spegnere, ok, ho spento. Infatti in quel momento la mia onda è completamente ferma, perché ho la possibilità anche di registrare solamente lo schermo senza per forza dover registrare anche la voce o i rumori di sottofondo se io fossi in una zona molto rumorosa. Per poter accedere e iniziare ad utilizzarlo, adesso in questo momento vado a registrare solo lo screen, questo. Vado quindi a cliccare tranquillamente passare da uno all'altro per poter dare l'accesso. Io clicco su show advanced option per andare a selezionare sia la tipologia di microfono che la tipologia di camera che voglio utilizzare. Allora, prima di tutto vado a selezionare screen più cam, in questo caso qui. Aspetto qualche secondo ed ecco che compare ciao a tutti la mia immagine qui. Io andando a cliccare sull'immagine poi spostandola posso decidere esattamente la posizione della mia immagine. Oltre a questo, utilizzando i tasti qua sotto posso anche scegliere la dimensione dell'immagine stessa. Questa è la parte più piccola, qua diventa leggermente più grande e poi qui diventa effettivamente grandissima. Io lo posso spostare, vado a rimpicciolirmi e a rimettermi nell'angolo come prima qui sotto. Se voglio selezionare la tipologia di cam, la source che io vado a scegliere, quindi da dove prendere il segnale, mi basterà andare in questa tab, cliccare sulla freccetta verso il basso e andare a scegliere tra le opzioni che vengono in automatico rilevate dal programma. La stessa cosa posso fare anche nel caso io avessi più microfoni a disposizione. Io consiglio sempre di utilizzare, anche se non un microfono professionale, va benissimo anche le cuffie del cellulare con plug-in tranquillamente. Ritorno su screen e qui ho la possibilità di scegliere tra tutto il desktop oppure solo la tab che visualizzo in questo momento. Se seleziono solo tab è questa, quella che è attiva adesso, piuttosto che full desktop, se scelgo full desktop e inizio a registrare, il programma mi chiederà di selezionare, come in questo caso, che cosa voglio registrare, cioè tutto questo o solo l'application windows. Applico la mia selezione, vado sotto su share e partirà la registrazione. Parte un countdown che mi permetterà di capire quando effettivamente la registrazione è attiva. I tasti che io vedo qua sotto sono quelli che mi permettono di capire se voglio mettere in pausa la mia registrazione utilizzando il classico tasto della pausa, decidere di non andare avanti e addirittura di cancellare tutto dove c'è la X oppure di essere soddisfatta di quello che è successo e quindi il check e vorrà dire che la mia registrazione è andata a buon fine. Quando ci si iscrive per la prima volta si ha a disposizione 14 giorni di prova per utilizzare il programma con delle funzionalità aggiuntive, quelle che sono poi superati 14 giorni a pagamento. Io utilizzo solo la versione free, che è dal mio punto di vista più che sufficiente. Date comunque un'occhiata se mi interessano delle informazioni in più. Una volta terminata la mia registrazione non lo farò peraltro che cliccare sul verde, come ho detto prima, finisce e quello che succede è che mi dice ovviamente felicità che ho registrato il mio primo video, let's go, andiamo a vedere quello che succede. Mi si apre questa nuova schermata che mi dice che mi permetterà, questo succede solo appunto nella versione con delle funzionalità in più, posso andare a modificare anche il nome, il titolo della mia registrazione, se il video non è particolarmente lungo sarà subito a disposizione. Qualora invece il video fosse di una durata superiore ci vorrà qualche minuto per renderlo a disposizione perché deve essere prima processato. Una volta pronto il mio video quello che posso fare è scaricarlo attraverso questo tasto, andare a duplicarlo qualora volessi fare delle modifiche oppure cestinarlo o anche addirittura condividerlo. Per condividerlo è davvero molto semplice, posso utilizzare questo tasto oppure andare a copiare il link. Il link non è altro che l'url che mi porta direttamente a questo video. Se io copio il link e mi basta cliccare qua sopra, mi dice infatti che è copiato all'interno dei miei appunti, poi posso andare ad inserirlo all'interno di una mail, di un messaggio di testo o qualsiasi altro strumento di condivisione. Non vado a mostrare queste altre possibilità perché sono quelle che sono a disposizione solo nel caso di un account a pagamento. Se volete procedere con un account a pagamento, poi in una fase successiva potete andare anche ad utilizzare questi strumenti che vi permettono di andare ad editare, a fare delle piccole modifiche sul vostro video se ci fossero degli errori, quindi a cancellarne una parte, a tagliarla e poi a ricostruirla. Detto questo, questo è lo strumento che volevo mostrarvi oggi, è Loom, è davvero uno strumento molto prezioso e davvero come avete visto molto facile da utilizzare. Ricordatevi sempre di andare a togliere le notifiche prima di iniziare a registrare il vostro schermo, le possibilità che avete poi per utilizzarlo come strumento è solo legato alla vostra fantasia. Ricordatevi soprattutto in questo momento che utilizzare anche la vostra immagine può essere molto utile perché quando le persone non sono a contatto diretto con voi, riuscire a vedere anche la vostra espressione sicuramente trasmette molto di più che solo lo schermo. Detto questo, buon utilizzo e buon video.